carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, a voi tutti carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio, nuova puntata di spazio giovane e nuovo viaggio all'interno del mondo della divina volontà e riprendiamo le catechesi sulla divina volontà che abbiamo momentaneamente interrotto la scorsa settimana per occuparci soprattutto del mese di novembre, del mese dedicato ai defunti, siamo ancora nell'ottava di prima appunto otto giorni di novembre e continuare a raccomandare a tutti con questa devozione importante alle anni del purgatorio di non abbandonarle e di utilizzare i doni che la ci fa per questo tempo perché possiamo essere di loro aiuto. Oggi stiamo nella parte, nella sezione di questo ciclo di catechesi dedicata a come si vive la divina volontà, quindi sappiamo un pochettino come sono strutturate, quindi una volta che si comprende e si è compresi almeno in generale cos'è questa divina volontà e cos'è questo dono che Dio ha voluto a quanto pare fare all'umanità attraverso Luisa Piccarreta, dobbiamo cercare di trovare il modo di entrarci dentro, quindi comprendere cosa significa vivere nella divina volontà. Oggi apriremo un capitolo, dentro questo capitolo, dopo aver visto bene l'importanza del fare la divina volontà che non deve mai essere dimenticato, d'accordo? Quindi è la piattaforma fondamentale ed essenziale di base, quindi tutto ciò che è contenuto nella scetica diciamo classica è tutto quanto ipso facto contenuto dentro la dottrina della divina volontà. Ovviamente il Signore ha anche insegnato, vedete come diceva San Luigi Maria Grignon da Montfort nel trattato della vera devozione, la devozione alla Madonna è un fatto che non si discute, d'accordo? Chi vuole discutere la devozione alla Madonna è fuori dalla comunione con la Chiesa Cattolica. Però San Luigi a un certo punto, per chi conosce bene il trattato, dice queste cose, come esistono dei segreti nell'ambito della natura, cioè per esempio nell'ambito delle professioni, gli chef che hanno delle ricette che non danno a nessuno, che fanno delle cose buonissime, quindi ognuno sa gli affari propri. Guardate che esistono, dice San Luigi, dei segreti anche nel mondo della grazia, cioè uno che volesse diventare veramente santo, perché a questo serve la vera devozione alla Madonna, trova in Maria un mezzo privilegiato, quindi un segreto per fare molto bene e in poco tempo. Il dono della Divina Volontà analogicamente possiamo paragonarlo a un segreto, d'accordo? Un segreto per entrare nel mondo e nel cuore stesso di Dio, quindi per fare la nostra vita stessa di Dio, pur rimanendo ovviamente morfologicamente degli esseri umani. Quindi come diceva San Giovanni Apostolo, dice vi do un comandamento nuovo, sì è un comandamento nuovo ma è anche antico, certo è nuovo, d'accordo? Così come il comandamento nuovo di Gesù, sapete, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, ecco questo è l'elemento di novità, no? Rispetto a Amerai il prossimo tuo come te stesso. Così non bisogna sminuire le rivelazioni a Luisa sulla Divina Volontà perché contengono delle cose nuove. Gesù stesso a Remomodo certamente credo in futuro di confrontarci con questo scritto, in un passo dice chiaramente a Luisa Leggi pure tutti i libri che vuoi, d'accordo? Tutti. E trovami un posto dove troverai le stesse cose che ti sto insegnando io, cioè le stesse cose e te nello stesso modo. Quindi questi stessi piccoli segreti, come si fa per esempio a trasformare un nostro atto umano o addirittura un atto indifferente, adesso poi ci familiarizzeremo con questo vocabolario, addirittura è un atto divino. Un atto divino che vuol dire che ha una portata santificante, non solo per me, ma che ridonda non solo su tutto quanto il mondo, ma su tutta l'umanità, tutta la storia, in maniera certamente misteriosa, ma non per questo non vera, che è un segreto, d'accordo? Cioè è un segreto molto molto semplice poi tra l'altro, se uno volesse metterlo in pratica e viverlo, però richiede delle cognizioni, delle conoscenze, quindi ricordiamo sempre che abbiamo molto insistito nelle puntate precedenti sulla conoscenza attenta alle certe cose, no? Perché per poterle mettere in pratica dobbiamo conoscere bene e possibilmente averle anche capite, assimilate bene. Io ci proverò, ecco lo scopo di queste catechesi, torno a ripeterlo, ci sono tantissime catechesi sulla divina volontà in giro, le ho raccomandate anche la volta scorsa, continuare a raccomandarle, andate, perché gli autorevoli testimoni di questo mondo ce ne sono molti e molto competenti. Ecco però, a mia conoscenza, che è molto limitata, non mi sembrava che ci fosse ancora in giro proprio una trattazione sistematica, sintetica e, come dire, complessiva, c'è la biancape e la coda. Ecco, noi adesso stiamo nella sezione del come si entra e come si comincia a vivere nella divina volontà. Poi, se Dio vuole, faremo gli effetti, cosa produce se io comincio a vivere, che cosa succede in me e fuori di me. E poi magari potremmo chiudere, adesso questo poi, nel corso del tempo, con un'antologia di passi scelti, veramente fare un'antologia perché lì, se prendono questi 36 volumi, certamente ci sono dei passi che sono veramente uno più bello dell'altro, in modo tale da completare un pochino il discorso, no? Allora, la prima cosa che si impara, adesso proprio, diciamo così, entriamo nel mondo tecnico, diciamo così, della divina volontà, brutta questa parola, però in alcune cose specifiche, ecco, che Gesù ha rivelato a Luisa. E tra queste, la cosa fondamentalissima, una delle prime cose che bisogna imparare a fare nel regno della divina volontà e a farla quotidianamente, è il cosiddetto atto preventivo. Allora, premessa, ecco, le rivelazioni sulla divina volontà non sarebbero tutto quanto questo granché se si limitassero a ribadire quello che è stato da sempre detto e insegnato, cioè io vi ricordo quello che vi accennavo come esperienza personale nelle prime battute di queste catechesi, no? Dico, quando con Obi mi fecero conoscere, insomma, questo libro di cielo di Luisa Piccarreta, c'è la divina volontà, la divina volontà, io pensai tra me e me, dico, cioè, di che vogliamo parlare? Certo che la divina volontà, cioè, se vuoi diventare santo devi fare la volontà di Dio, quindi, e ci sono fiumi di inchiostro che sono stati scritti su questo e in maniera molto molto elevata, molto molto santificante, molto sostanziosa, ecco, proprio dottrina solidissima, d'accordo, per cui si va sparati in paradiso, no? Ecco, però qui non si tratta semplicemente di fare la volontà di Dio, ecco, adesso questo fate attenzione perché qui stiamo in un passaggio che dire fondamentale è dire poco, se non si capisce questo non si capisce tutto il resto. Allora, quello a cui tende la rivelazione di Gesù e quello che Gesù stesso ci rivela a proposito di come era la vita di Adamo ed Eva, è che la divina volontà non è soltanto, come dire, la manifestazione di ciò che Dio vuole, quindi Dio mi rivela quello che vuole, cioè, c'è l'individuo, perdonatemi se parlo così, Dio, d'accordo, distinto da me, poi ci sono io, che sono la sua creatura, sono l'individuo Don Leonardo, e Dio mi dice guarda Don Leonardo, tu sei prete, giusto? Quindi se sei prete tu devi pregare tutti i giorni per i tuoi fedeli, devi celebrare la messa tutti i giorni, devi predicare come Dio comanda, devi essere buono con tutti, devi fare bene il pastore, devi far impere bene i doveri da parro, tutte quante le cose che riguardano, certamente questo ho fatto una sintesi, di una parte di quella che è la volontà di Dio per un prete, no? È chiaro che queste cose le devo fare, d'accordo? Guai a me se non le faccio e se non le faccio bene, sarebbe una cosa molto brutta e molto grave, però la divina volontà è qualcosa di più, allora in questo esempio che vi ho fatto ci sono due individui, uno divino che è Dio, uno umano, uno che è santificante e uno che è santificato, quindi io divento santo se la mia volontà si apre a quello che gli dice Dio, decide di mettere in pratica quello che ascolta e lo mette in pratica, quindi la mia volontà si sforza, è guai a chi nega lo sforzo nel cammino di santificazione, perché c'è qualche pazzeriello anche che ogni tanto gira e che va cianciando in giro che si diventa santi senza sforzo, quando Gesù nel Vangelo dice sforzatevi di passare per la porta stretta perché molti vi dico cercheranno di entrarci ma non ci riusciranno, dove esiste una santità senza sforzo qualcuno mi trovi un solo santo che parla di questa cosa, uno, d'accordo? E non pensiamo che anche a divina volontà si faccia senza sforzo, però il dono della divina volontà e il fine di questa rivelazione non è semplicemente, che è già tantissimo, un soggetto umano che si uniforma ad una manifestazione di volere divino che è per la sua santificazione, quindi la mia volontà si adegua a quella divina ma rimaniamo sempre io e Dio, io qua e lui là, tanto per spiegarci, no? La vita nella divina volontà tende a creare una fusione reale, vera, non metaforica, cioè a fare in modo che la divina volontà stessa operi e agisca in noi e viceversa che io, povero esseri umani, impari ad agire, ad operarmi, a muovermi dentro la divina volontà, quindi a non fare più nessun atto, neanche quelli indifferenti come atto umano, ma tutto come atto divino. Allora, questo per ora, che certamente adesso comincieremo a spiegarle queste cose, no? Però come introduzione, questo è un passaggio fondamentale e l'atto preventivo è, come dire, è il primo gradino che ci introduce dentro questo fondamentale passaggio, capite? Quindi nella vita, nella divina volontà, ripeto, non ci sono più due volontà che diventano unite, rimanendo distinte, ma ci sono, come si dice, due in una sola carne, cioè si diventa uno, ci si fonde, capite? È una cosa grossa, è una cosa piccola, ecco. Si realizza una fusione tra la creatura e il creatore e si comincia ad operare in modo ordinariamente divino, perché la vita nella divina volontà non è altro che un continuare sulla Terra, noi, la stessa vita che Gesù ha vissuto quando era sul pianeta Terra, la stessa vita che ha fatto la Madonna, la stessa vita che hanno fatti i nostri progenitori ad Amedeva prima del peccato originale. È una cosa che se qualcuno non te l'avesse rivelata non potevi conoscere, cioè nessuno di noi poteva immaginare come vivevano ad Amedeva. Noi abbiamo fatto qualche riferimento, abbiamo letto anche qualcosa, d'accordo? Quindi questo stato di amicizia assoluta, questo stato di intimità assoluta, questo veramente possedere Dio in pienezza, questa perfetta felicità che già vivevano nel paradiso terrestre. Capite che veramente quando uno legge certe cose, i tanti passaggi insomma che Gesù dedica alla condizione dei primi, il primo pensiero che gli hanno diceva, ma come hanno fatto? Con un linguaggio del genere, insomma con tutto quello che c'avevano, misteri. Ecco, e quello che è il cosiddetto fiat santificante, ne abbiamo parlato, quindi questo mondo che adesso Dio sta riproponendo alla sua chiesa e che ha avuto come pioniera, come apripista, come antesignana Luisa Piccarreta, tende a cercare di ricuperare il dono perduto dai nostri progenitori e riportato e vissuto in terra da Gesù e da Maria nella sua pienezza, d'accordo? E che è espresso in ciò che già Gesù ci ha messo sulla nostra bocca, che il fiat voluntas tua siccuti in cielo e in terra, che è l'espressione culminante del Padre nostro, ma che va oltre il semplice che possiamo imparare tutti quanti a obbedire a Dio e fare quello che Lui vuole. Ecco. Allora, che cosa sarebbe questo atto preventivo? Adesso poi vi leggerò il testo. L'atto preventivo che è da recitare ogni mattina, per chi desidera cominciare ad entrare in questo regno, io è stata la prima cosa personalmente che ho cominciato a fare da subito, d'accordo? Immediatamente. È un atto, è una preghiera con cui io coscientemente e volontariamente porto dentro la divina volontà, d'accordo? Dentro la divina volontà, tutte tante le mie azioni. Oppure, se preferiamo, adesso leggeremo uno scritto dove Gesù stesso lo spiega. Scusate, portiamo dentro la volontà divina la nostra volontà umana. Ok? Adesso vedremo in che senso e come. Allora, non so se leggere prima, forse è meglio leggere proprio prima indirettamente l'atto preventivo, così com'è, così ci spieghiamo. Allora, l'atto preventivo è questo. Gesù ti amo con la tua volontà. Viene divina volontà a pregare in me, e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Gesù ti amo con la tua volontà. Viene divina volontà ad abbracciare in me tutto quello che vuoi che oggi io faccia, che tutto sia nella tua divina volontà per darti il ricambio di amore, di adorazione, di gloria, come se tutte le creature, aprendo gli occhi, ti avessero dato questo contraccambio completo. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà, ascoltate bene, a pensare nella mia mente. Vieni divina volontà a circolare nel mio sangue. Vieni divina volontà a guardare nei miei occhi. Vieni divina volontà ad ascoltare nelle mie orecchie. Vieni divina volontà a parlare nella mia voce. Vieni divina volontà a respirare nel mio respiro. Vieni divina volontà a palpitare nel mio cuore. Vieni divina volontà a muoverti nel mio moto. Vieni divina volontà a camminare nei miei passi per andare in cerca di tutte le creature e chiamarle a te. Vieni divina volontà nel mio scrivere e scrivi la tua legge nell'anima mia. Vieni divina volontà nel mio leggere ed imprimi le tue verità come vita nel mio cuore. Vieni divina volontà ad operare nelle mie mani. Vieni divina volontà a soffrire nel mio soffrire. E la mia anima unita con la tua volontà sia il crocifisso vivente immolato che la gloria del padre. Vieni divina volontà ad offrire nel mio offrire perché tutto in me chieda del padre la gloria e la santificazione delle anime. Gesù ti amo con la tua volontà viene divina volontà ad adorare in me. Vieni scusate e poiché la tua volontà moltiplica gli atti all'infinito così intendo darti soddisfazione come se tutti partecipassero la santa messa nella tua divina volontà ed intendo dare a tutti il frutto del santo sacrificio ed impedrare per tutti la salvezza e la santificazione nel divino volere. Gesù ti amo con la tua volontà viene divina volontà in questa comunione mia con te vieni perché io intendo non solo donarti all'anima mia ma a tutte le anime che non ti ricevono per riparare i nostri peccati e dare gloria al padre. Amen. Questo è l'atto preventivo. Allora forse è meglio dargli prima un piccolo commento e poi leggere lo scritto dove Gesù in persona fa riferimento a questo atto da lui stesso rivelato per spiegarne il senso. C'è una frase tipica che ricorre in vari passaggi nei vari momenti in cui come si cambiano gli ambiti si si cambiano si si diversificano gli ambiti di unione con la divina volontà. Scusiamo l'interruzione della diretta con gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e anche con chiunque fosse collegato perché purtroppo c'è stato un blackout estemporaneo oggi è stato il maltempo sono saltate tutte le connessioni internet e quindi riprendiamo adesso da dove ci siamo fermati spero che si sia potuto ascoltare la lettura integrale dell'atto preventivo e stavo appunto spiegando come quest'atto preventivo che è stato insegnato da Gesù stesso e da lui spiegato è il modo con cui appunto preventivamente noi all'inizio della giornata e chiamiamo se ci si passa insomma questo questo termine la divina volontà ad unirci a tutte le nostre azioni volontarie se avete fatto caso nell'atto preventivo si si citano per esempio il parlare il guardare il pensare lo scrivere il leggere questi sono tutti quanti atti umani e volontari quindi la nostra coscienza è coinvolta la nostra libertà coinvolta la nostra volontà coinvolta ma si nominano anche se qualcuno sarà un pochino stupito degli atti completamente non volontari quindi degli atti inconsci cioè per esempio viene di me la volontà nel mio respirare a muoverti nel mio moto d'accordo quindi nella circolazione del mio sangue ci sono una serie di atti inconsci con cui nei confronti dei quali si invoca e si chiama la divina volontà a entrare in noi e a unire quegli atti a sé è una cosa del tutto peculiare questa come potete capire allora prima di commentarlo forse è bene leggere lo scritto del 27 maggio del 1922 dove gesù stesso spiega qualcosa di ciò che l'atto preventivo è stavo pensando tra me scrive luisa se è così grande un atto fatto nel suo volere quanti ahimè non ne faccio sfuggire ed il mio dolce gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia c'è l'atto preventivo e l'atto attuale il preventivo è quello quando l'anima fin dal primo sorgere nel del sole fissa la sua volontà nella mia e si conferma di voler vivere ed operare solo nel mio volere previene tutti i suoi atti e li fa scorrere nel mio volere con la volontà preventiva il mio sode sorge la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti come dentro di un solo atto e questo supplisce all'atto attuale però l'atto preventivo può essere ombrato oscurato dai modi umani dalla volontà propria dalla stima dalla trascuratezza ed altro che sono come nubi innanzi al sole che rendono meno vivida la sua luce sulla faccia della terra invece l'atto attuale non è soggetto a nubi ma ha virtù di diradare le nubi se ci sono e fa sorgere tanti altri soli in cui resta duplicata la mia vita attenzione a questi termini tecnici con tale vivezza di luce e calore da formare altrettanti nuovi soli l'uno più bello dell'altro però tutti e due sono necessari il preventivo dalla mano dispone e forma il piano all'attuale l'attuale conserva ed allarga il piano del preventivo qui chiaramente Gesù usa una serie di termini tecnici l'atto preventivo l'abbiamo ascoltato quello che è cos'è l'atto attuale di unione con la divina volontà? l'atto attuale di unione con la divina volontà è appunto è come il peccato attuale d'accordo è rispetto al al vizio ecco oppure è l'atto di virtù e rispetto alla virtù allora io so se sto in grazia di Dio ho dentro di me infuse la forma di tutte quante le virtù ti erogare i cardinali solo che queste virtù devono essere esercitate attraverso gli atti ogni atto di virtù che io compio dice la scelica classica mi rende più virtuoso cioè se compio un atto di prudenza faccio una scelta ispirata a prudenza divento più prudente se faccio un atto di giustizia divento più giusto se faccio un atto di fortezza divento più forte se faccio un atto di temperanza divento più temperanza e poi vale anche il contrario ci sono i vizi che sono le disposizioni cattive presenti in maniera abituale nella nostra anima e gli atti in cui si esplicitano d'accordo l'atto preventivo diciamo sta all'atto attuale come l'ambito sta all'atto come la virtù sta all'atto di virtù e come il vizio sta all'atto peccaminoso ecco diciamo quindi ogni mattina noi esprimiamo volontariamente al Signore la volontà di portare tutte le nostre azioni volontarie e involontarie consce e inconsce nel divino volere adesso vedremo perché d'accordo con l'atto attuale richiamiamo e gli atti attuali chiaramente più se ne moltiplicano e meglio è ogni singola azione che noi compiamo nel divino volere se io per esempio prima di cominciare questa catechesi ho detto viene divina volontà nel mio parlare questo atto che io ora sto compiendo lo sto facendo io unito al divino volere diventa così capiamo cosa significa un atto divino attenzione questa è una cosa abbastanza grossa cosa significa un atto divino allora il fondamento di questa possibilità facciamo attenzione è la santissima umanità di Cristo che per prima ha vissuto questo in maniera ovviamente assolutamente perfetta rifacendo proprio il dono perduto dei nostri progenitori l'hanno vissuto Gesù e Maria come nuova damo e come nuova Eva d'accordo allora portare un atto umano dentro la divina volontà ha questa conseguenza allora gli atti umani indifferenti come il respirare per esempio la circolazione del mio sangue non producono nessun tipo di effetto d'accordo né in bene né in male cioè se io respiro l'unico effetto che si produce è che se sto dentro una stanza dopo un po' bisogna aprire la finestra perché l'aria si riempie di anidride carbonica come tutti quanti sappiamo e manda cattivo odore ma il respiro non ha mai fatto male a nessuno d'accordo e ne fa bene a nessuno il mio respiro non fa bene a nessuno così come che il mio sangue circoli dentro le mie vene certamente fa bene a tutte quante le mie cellule al mio organismo lo mantiene in vita ma non produce effetti fuori di sé d'accordo né in bene né in male d'accordo non è così per gli atti umani cioè un mio atto volontario per esempio anche il fatto che adesso stia facendo una catechesi online quindi in diretta su Radio Buon Consiglio e in diretta online questo è un atto volontario che produce degli effetti d'accordo e come perché ci sono delle persone che mi stanno ascoltando e se quello che sto dicendo è una cosa buona chi mi ascolta e la ritiene come cosa buona diventerà più buono se quello che sto facendo è una cosa cattiva chi mi ascolta diventerà più cattivo speriamo di no ecco davanti a Dio poi che un sacerdote faccia una catechesi è esplicazione del suo ministero e del mandato che ho ricevuto dalla chiesa di predicare d'accordo quindi in se stessa questa azione essendo un'azione sacerdotale positiva a meno che io non stia sparando eresie su eresie che Dio me ne guardi è un'azione come dire perdonatemi in se stessa virtuosa e noi sappiamo che un'opera buona da chiunque sia compiuta anche da un essere umano normalissimo non è che rende più buono solo chi lo compie ma ridonda beneficio di tutti qui bisogna sempre così come questo va anche per i peccati cioè San Giovanni Paolo II leggiamolo sempre non è una scena in continuazione di tutte le catechesi che ho fatto sulla confessione spesse volte la storia citata nella esortazione posti notale reconciliazio e penitenzie San Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica posti notale reconciliazio e penitenzie dice che non esiste non esiste peccato non soltanto pubblico scandalo d'accordo ma peccato privato quindi azione cattiva compiuta singolarmente se fosse anche un peccato di pensiero che non ridonda avendo effetti negativi su tutta la chiesa cioè se io penso malamente dico entro in chiesa dico ma guarda questo come 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 sei presentato in chiesa magari sarà pure vero quindi faccio un piccolo pensiero contrario alla carità d'accordo questa cosa non rimane tra me e me non è semplicemente un pensiero contrario alla carità che quando mi vado a confessare dico abbiamo fatto una piccola mancanza della carità 9 questa è tutta della chiesa queste non sono liberazioni private solo di una volontà d'accordo le presuppongono la liberazione solo di una volontà e le fanno capire questo atto ridonda a mare di tutti quindi fa aumentare il potere che il demonio ha nel mondo perché il potere che il demonio ha nel mondo è direttamente proporzionale ai nostri peccati danneggia l'immagine che la chiesa dà di se stessa d'accordo solo l'immagine che la chiesa dà di se stessa attraverso i suoi figli non può intaccare la santità della chiesa perché attiene alla sua essenza ma l'immagine sì ostacola l'opera di evangelizzazione capite questo è dottrina della chiesa questo qui che un atto umano attenzione di un uomo in quanto atto libero quindi esercizio del libero arbitrio se è buono nobilita l'uomo e fa bene a tutti se è cattivo degrada l'uomo e fa male a tutti questo è un principio fondamentale ora quanto bene e quanto male può fare un atto umano mio grazie a Dio può fare del bene e del male limitati perché è un atto finito d'accordo è un atto compiuto da un essere umano finito in un certo in un certo lasso temporale d'accordo io sto facendo questa catechesi una delle catechesi più travagliate che esistano con tutti quanti i cali di linea di tensione che ci stanno mai vista una cosa del genere comunque sto facendo questa cosa all'ora x del giorno y d'accordo quindi tra poco sarà finita d'accordo quindi ha una circoscrizione temporale ben limitata ha una circoscrizione spaziale ben limitata cioè fatta in un luogo geografico preciso ed ha una circoscrizione perdonate un termine ontologica ben limitata cioè fatta da un essere umano d'accordo un essere finito cioè che capite io sono circoscritto adesso qui d'accordo ho una data di nascita non sono eterno nel 1960 io semplicemente non ero d'accordo punto e basta ecco quindi questo è un atto umano ora e come sono invece gli atti divini come sono gli atti divini cioè gli atti che fa Dio come sono allora come l'atto umano riflette la mia situazione ontologica che è limitata finita e contingente perdonatemi il suo termine un pochettino però non mi sembra che siano troppo troppo difficili spero di non stare esagerando un atto che fa Dio a com'è Dio è eterno Dio non è un essere finito Dio è infinito Dio non è circoscrivibile in un luogo determinato ricordate il catechismo dell'esempio decimo Dio è immenso che significa che Dio è immenso significa che Dio è presente tutto e dappertutto cioè in cielo in terra e in ogni luogo quindi un atto divino partecipa delle caratteristiche e degli attributi dell'ente divino noi queste cose ce ne andiamo unicamente conto cioè se Dio fa un atto ipso facto quell'atto è uno eterno secondo infinito terzo immenso in quell'atto quando Dio compie un atto essendo la sostanza assolutamente semplice è presente con tutto se stesso quindi dentro quell'atto è contenuta qui per quanto la nostra mente ci arrivi la pienezza di amore che lui è la pienezza di felicità che lui è e che ha d'accordo tutta l'onnipotenza di cui è dotato tutta l'onniscenza di cui è dotato e possiamo continuare tutti gli attributi divini quindi immagini che cos'è un atto divino cioè è assolutamente qualche cosa di infinitamente grande allora audite audite tu dici ma tu che cosa sta dicendo Don Donato non lo sta dicendo Don Donato sto dicendo Gesù sta dicendo questa roba che io non ci sarei mai arrivata una roba del genere cioè che nel dono della divina volontà ecco oltre che come prerequisito evidentemente fare quello che Dio vuole cioè io non posso dire alla divina volontà viene divina volontà nel mio parlare e dico le parolacce ma questo è più evidente che se io dico viene divina volontà nel mio parlare e dico le parolacce ma certamente Dio non unirà mai la parolaccia alla sua divina essenza ma se io dico viene divina volontà nel mio parlare e cerco come dice San Paolo nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca ma parole buone che possano servire per l'edificazione giovando a quelli che ascoltano parole dolci parole di carità parole di verità parole di comunione parole di conforto parole di consolazione non lo so tutto quello che volete allora in tutte le parole buone che io dirò non in quelle cattive o in quelle oziose o in quelle inutili o nelle bestemmie o nelle parolacce o nelle maldicenze o nei giudizi o nelle murmurazioni o nelle critiche o nelle calunnie è più evidente questo qui io posso prendere tutte queste azioni buone e chiedere al Signore che le unisca al suo divino volere d'accordo perché sono azioni buone cioè l'azione buona di per sé stessa è conforme alla divina volontà quindi è voluta da Dio quindi per questo dono che Dio ci fa perché è un dono gratuito capite di offrirci la sua divina volontà io con un atto mio volontario posso dire bene io desidero questo atto non abbia solo quel valore buono limitato che comunque è meglio che niente che ha l'atto di un essere umano ma lo consegno nelle mani di Dio e gli chiedo di farlo suo perché perché il bene che questa catechesi supponiamo che faccia qualcosa di buono sta producendo ora nella divina volontà si moltiplichi e immaginate cosa significa la potenza di una catechesi unita all'onnipotenza divina ma non per la catechesi capite non è il problema della catechesi è il problema dell'onnipotenza divina capite unita al valore infinito che ha cioè un atto di vedete perché allora tu dici ecco cominciamo subito ad aprire uno spiraglio un flash d'accordo un flash noi sappiamo tante brutte cose che ci stanno adesso oggi in giro tanti problemi nel mondo nella chiesa dove uno vuole che cosa dobbiamo fare ecco perché io vi dico il contesto anche il momento in cui queste conoscenze sono arrivate alla mia vita per me sono state di grandissima illuminazione che cosa dobbiamo fare dobbiamo cominciare ad agitarci proprio ieri sera leggevo negli scritti una cosa del tutto singolare l'ho raccontato oggi a qualche persona che ho incontrato incredibile cioè l'ho anche postata su facebook una cioè io sto leggendo i contemporanei i primi volumi con quelli un pochino più avanzati mi trovo sul volume secondo e sul volume tredicesimo letti come dire in lezio continuo quindi senza nessun tipo di due paragrafi tutti e due che parlavano del turbamento e dove Gesù dice non c'è niente da cui bisogna stare alla larga e che bisogna quanto il turbamento perché non c'è niente che ti allontana più da me e che mi impedisce di stare in comunione con te del turbamento di quando tu sei turbato e poi afferma subito la divina maria mia madre la madonna non ha mai conosciuto neanche l'ombra del turbamento ed è per questo che sono stato sempre con lei e neanche sotto la croce sotto la croce soffriva ma non era minimamente turbata perché che cos'è il turbamento quando uno si turba si agita di fatto provate a pensare cosa sta facendo una sola cosa sta dubitando della divina onnipotenza d'accordo il mondo sta andando a rotoli va bene sta andando a rotoli l'Europa sta sotto un treno no sotto un treno sotto due treni d'accordo si stanno facendo leggi inique disastri sono 40 anni che stanno facendo 50 stanno facendo queste robe qui si è vero verissimo e allora che cosa dobbiamo fare devo passare la giornata a dire oh poveri noi dove andiamo a finire adesso non ho fatto un'altra adesso vogliono portare la gente dentro le scuole adesso dobbiamo fare qualcosa e dove andremo a finire e Dio ci ha abbandonato cioè facciamo così o ci mettiamo a fare sparate come dire indiscrete o andare a fare rivolte rivoluzioni sono stili evangelici questi qui no stesso discorso vale per eventuali veri o presunti problemi ecclesiali a tutti i livelli che cosa dobbiamo fare allora la domanda è molto semplice ed è duplice Dio esiste o non esiste comanda lui o comanda qualcun altro bisogna un attimo bisogna un attimo capire chi comanda chi è che comanda chi è che comanda è vero che c'è il principe di questo mondo verissimo e oggi il potere che il principe di questo mondo ha è tanto e chi gliel'ha dato gliel'abbiamo dato noi con la nostra volontà umana non solo noi però 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 è anche vero che tutto questo potere del principio di questo mondo che tutto questo che abbiamo dato attraverso i nostri peccati non avviene senza permissione certamente permissione non voluta da parte della divina onnipotenza e che la divina onnipotenza sta già in atto per distruggere completamente queste cose e anche attraverso tutto questo male portare avanti la storia portare avanti il suo regno portare avanti tutto queste sono verità di fede queste qui se non ci credi padronissimo ma non sei cattolico ma anche cattolico non sei credente d'accordo chiunque creda in Dio voglio fare cioè fosse anche non può cioè l'idea stessa di Dio non è concepibile senza per esempio l'onipotenza non è possibile se Dio non è onipotente non è Dio perché l'onipotenza è uno degli attributi essenziali dell'altissimo quindi se tu ti turbi e ti agiti o se ti preoccupi vi ricordate quando Gesù rimprovera Marta non rimprovera Marta dicendo che bisogna oziare non bisogna fare niente dalla mattina alla sera ma cosa dice a Marta nel Vangelo di Marta e Maria dice tu ti preoccupi e ti agiti ecco il turbamento dice di molte cose anche santi ma mi è venuto a casa il nostro signore mi tocca qualcosa che faccio ho venuto a figura con il nostro dominativo non mi provare niente da mangiare mi prepari una stanza per dormire fammi qualcosa bisogna vedere come la fai bisogna vedere come la fai con calma Marta è santa d'accordo è una santa canonizzata dalla chiesa ma Gesù gli ha dato questa piccola correzione calma tu non ti devi preoccupare ti devi occupare delle cose che la mia divina volontà piano piano ti mette dinanzi senza agitarti non ti devi agitare ma devi agire a tempo luogo momento e forma opportuni non agitare ma agire non preoccuparti ma occuparti torniamo all'atto dice che c'entra questo come che c'entra se io credo attenzione che non c'è bisogno che io vado a prendere per il collo la gente gli tiro il collo e la devo convertire a forza di mazzate perché tanto quello non c'è che allora se al Parlamento Europeo supponiamone uno fanno leggi balorde perché l'hanno l'hanno preso non lo so governanti iniqui dico Parlamento Europeo o Parlamento dove pare non ce l'ho col Parlamento Europeo non voglio fare nessuna in situazione non voglio fare niente d'accordo che facciamo andiamo lì a fare sit in andiamo lì a tirargli il collo andiamo lì a dirgli che cosa facciamo facciamo questo è questo quello che è da farsi no quello che è da farsi è dire un bel fiat d'accordo signore mio la nostra volontà umana purtroppo sta dando forza al demonio e ci stiamo ritrovando in un mare di guai ma io credo fermamente che tu hai la forza e il potere di rovesciare questa situazione e che io nel mio piccolo nel mio piccolo posso offrire il mio contributo qual è il contributo che posso offrire le mie preghiere te le offrirò nella divina volontà così anziché avere l'efficacia impetratoria espiatoria e propiziatoria di una preghiera comune ci saranno la stessa forza che c'è la volontà tua per il tuo trono e farò la stessa cosa con le mie azioni tanto il male che si diffonde nel mondo attraverso i peccati degli uomini che sono comunque limitati e io opporrò a questo gigantesco amore di peccati i miei poveri atti che di per sé stessi sono atti di un povero prete dico io per me ma uniti alla tua divina volontà io li trasformi in atti tuoi e quindi a questo ma montagna di letame di fango che ogni giorno si erge nel mondo io quello che posso fare è entrare nel tuo volere e opporre il bene la forza la potenza della tua volontà a tutto questo diragare di male è un altro allora io quando vi ripeto quando io ho conosciuto queste cose ci ho pensato molto bene d'accordo ci ho meditato parecchio ci ho pregato tanto e a un certo punto mi sono detto fermi tutti anche sulla base perdonatemi delle conoscenze insomma teologiche che ho io perché ce l'ho non è che non ce l'ho capite quindi da un punto di vista teologico dogmatico il discorso che vi ho fatto su atti umani e atti divini non è attaccabile d'accordo quindi se quello che Gesù dice e rivela a lui se è vero ecco l'atto di fede che bisogna fare stiamo a cavallo sai che significa a cavallo certo c'è sempre l'ostacolo della nostra volontà umana d'accordo perché ripeto a voglia di l'atto preventivo viene di una volontà del mio parlare se io poi ho una lingua di taglia e cuccia la mattina alla sera la divina volontà non unisce le mie chiacchiere al suo volere assolutamente d'accordo però e poi qui ci farò una puntata apposta anche un'azione da me compiuta imperfetta quindi non in se stessa peccaminosa può essere unita al divino volere se poi attraverso come dire come filtro tra la mia azione e la divina volontà che desiderano essere uniti io ci metto la consagrazione totus tuus abbiamo fatto strike perché il fondamento della consagrazione totus tuus poi riprenderemo questo discorso vorrei farci una puntata ad hoc prendendomi anche una piccola licenza da Luisa perché per il mio grado attuale di conoscenza degli iscritti di Luisa non ci sono riferimenti espliciti a questa cosa però io ce li vedo troppo evidenti e per cui suggerirò con i dovuti distingo quindi specificando che queste sono mie personali letture non fondate sugli iscritti perché che cosa dice San Luigi qual è l'importanza della consagrazione totus tuus è molteplice io oggi l'accenno soltanto non è solo un atto di culto alla Madonna non è solo un dire alla Madonna prenditi tu cura di me perché io sono un guaio totale d'accordo non è soltanto l'impegno e questo la vera devozione consiste nell'imitazione non portare il rosario al collo o la catenella al dito non è solo questo d'accordo ma è l'imitazione di Maria è l'obbedienza a Maria cioè la consagrazione totus tuus vuol dire diventare schiavi della Madonna cioè se io so che la Madonna vuole o che la dice una cosa ma non ci sono santi io quella cosa la faccio e basta ma vado contro tutto il mondo messo insieme d'accordo non mi importa niente né di vergogna né di quello che pensano zero ma a un certo punto cioè il fondamento di tutto questo ecco perché se una legge dice questi discorsi non li capirà quasi nessuno perché quasi tutti si fermeranno all'esteriore di questa consagrazione faranno la consagrazione un giorno mariano si mettono una catenella al collo al polso da dove gli pare da dove gli pare faranno il magnificat poi fanno pure la conoscenza di 12 stelle festeggiano il 25 marzo tutto quello che ti pare ma non arriveranno all'essenza l'essenza è che io chiamo la madonna ad agire in me e mi unisco alle sue intenzioni e il fondamento di questo è che tornando all'atto umano anche un'azione umana buona compiuta da un figlio di Adamo come sono io non sarà mai assolutamente perfetta capite cioè perché una catechesi vi dico sia perfettissima agli occhi di Dio vi dico tutto quello che ci deve stare uno la mia intenzione deve essere esclusivamente la gloria di Dio e la salvezza delle anime cioè non ci deve essere neanche un puntino però speriamo che a qualcuno gli piace che mi dice che so ma manco mezza virgola zero secondo il linguaggio deve essere perfetto sia nella forma sia nei modi che nei contenuti perfettissimo agli occhi di Dio d'accordo quindi perfettamente riproducibile cioè se Gesù dovesse stare veramente a fare la cosa al posto di Dio dovrebbe sottoscrivere dall'A alla Z tutto quello che dico e come lo dico chi è capace a fare una cosa di questo genere alzi la mano cioè noi ce la possiamo mettere tutta d'accordo però andiamo incontro alla nostra limitazione strutturale cioè è già un miracolo se uno in linea di massima ha buone intenzioni o buone disposizioni però un'azione di questo genere sale a Dio come imperfetta ecco perché sta al purgatorio cioè non è degna di lui perché le azioni degne di Dio sono solo le azioni perfette e chi è che ha compiuto le azioni perfette? come rappresentante puro della razza umana solo una madonna Gesù è stato vero uomo ma Gesù era uomo Dio è un rappresentante della razza umana ma non un puro uomo se non diventiamo eretici qual è l'unica creatura che ha agito con una purezza di intenzione sempre esemplare e solo per la massima gloria di Dio e la salvezza delle anime e la riparazione dei peccati in tutto quello che ha fatto la madonna allora capite cioè quello che si fa nella divina volontà cioè io prendo un mio atto e lo porto la divina volontà perché sia un atto divino già San Luigi stava insegnando a farlo con gli atti compiuti in unione con le intenzioni e le disposizioni di Maria cioè fare tutte e tante cose per mezzo di Maria si chiama tecnicamente perché? perché io che mi riconosco un essere comunque non solo limitato vedete qui imperfetto chiedo alla madonna che purifichi nel suo cuore tutte le mie intenzioni e tutte le mie azioni in modo da renderle degne di Dio e questo è il primo passaggio cosa aggiunge la divina volontà? che queste azioni non sono solo degne di Dio ma queste azioni diventano divine capite? qui devono essere uno buone o quantomeno lecite o indifferenti come il sonno due purificate nel cuore immacolato di Maria e tre trasformate in divine dalla divina onnipotenza allora capite ragazzi cioè prendete diecimila persone che siano capaci di vivere così in tutto il mondo dategli a tempo dieci anni e vediamo poi che fine fa il mondo ma sono pure troppi di dieci anni dove stanno però? il mondo si cambia a mio modestissimo avviso così cioè è un mio avviso personale certamente non del tutto arbitrario perché è fondato su alcune di queste cose Luisa Piccarreta è stata una vita rinchiusa dentro una camera non ha fatto nulla apparentemente nulla eppure è stata la pioniera del regno della divina volontà che a quello che dice Gesù è il dono più grande che la divina provvidenza abbia fatto alla storia dell'umanità ma noi dobbiamo pensare anche al nostro signore Gesù Cristo perché il regno della divina volontà ci riporta molto bene in Nazareth Gesù è stato 30 anni a Nazareth lo vedremo in queste catechesi sapete che ha fatto per 30 anni a Nazareth miliardi di miliardi di atti compiuti nel divino in volere per rifare riparare tutti quanti i nostri atti 30 anni contro 3 anni e la Madonna che ha fatto sulla terra ha predicato ha fatto i miracoli quando era sulla terra la Madonna zero l'unica cosa come dire di utile al prossimo mi perdoni capite in che senso è che dopo l'ascensione di Gesù gli atti degli apostoli se rappresentano come madre e regina degli apostoli e consigliera della chiesa sicuramente ha esercitato una funzione di questo genere 100% certamente l'ha fatto la madre di Gesù la sposa di San Giuseppe ma c'è tutto quello che sta facendo adesso cioè tutte quante queste queste missive che il cielo gli sta mandando e che lei sta impiando non le ha fatte quando era sulla terra è rimasta nascosta e che faceva tutto il bene che ci ha procurato cioè con la sua vita terrena noi non ce lo immaginiamo neanche la notte e tutti questi esempi devono farci cambiare la nostra capocetta che è una capocetta molto umana e noi pensiamo che le cose cambiano con le opere col fare col fare rumore col fare macello col combattere alla umana no no le opere si cambiano facendo operando eccetera eccetera e combattendo alla divina non alla umana che molte volte la umana poi diventa satanica cioè se combatte satana con satana e così la battaglia è persa prima ancora di cominciare e non voglio scendere in particolari ce ne sarebbero quanti e uno ne vuole per fare esempi concreti di lotte compiute apparentemente in nome di Dio ma usando gli strumenti di satana e satana non si combatte con satana dice il buon padre Dio satana si combatte con le armi del cielo proseguiamo se Dio vuole speriamo con meno disturbi la prossima settimana do a tutti la mia benedizione ave maria grazie a tutti